Su stare con l'auto nei pressi dei servizi per l'infanzia, degli ambulatori medici, dei parchi e dei giardini pubblici sarà più facile a città di Castello, grazie ai 34 parcheggi rosa che l'amministrazione comunale ha deciso di istituire nel capoluogo e nelle frazioni per facilitare gli spostamenti delle donne incinte e dei genitori con figli di età non superiore a due anni muniti di permessi rosa. E' stata presentata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile la richiesta di concessione di contributo prevista a valere sul fondo creato dalla legge e così a città di Castello sono arrivati 20.000 euro che saranno destinati a 34 parcheggi rosa e anche a 6 posti auto per persone con invalidità. Gli stali sono stati individuati in tutto il territorio comunale sia nel capoluogo che nelle frazioni. Qui saranno istituiti a Trestina due parcheggi in Piazza Italia, uno nel parcheggio Don Zefferino Caporali e uno in via Leparini, infine uno in via Stato Unito d'America, a Serbara uno in via Antonio Banfi, uno in via Vincenzo Monti ed uno in via Giovanni Pascoli, a San Secondo uno in via della Stazione, a Cornetto un parcheggio in via dell'Industria, a Piosina, uno in via Sant'Anzano e per finire a Lerchi nel parcheggio di via Toscana. Grazie.